poter sperimentare vedere dal vivo angelo vaira è stata una grande emozione perché insomma io l'avevo sempre visto online quindi lo seguo ho già seguito magari altri corsi è stata una gran bella riconferma perché l'ho rivisto in presenza così come è sullo schermo quindi l'ho trovata una persona molto autentica mi sono sentita appunto di poter parlare con lui confrontarmi con lui in una maniera molto naturale e mi è piaciuto tanto il fatto che con etica gentilezza rispetto si sia comporte io l'abbia visto appunto in questi giorni con tutti animali umani eccetera e questo mi è piaciuto molto di vedere una persona che vive una missione una missione di vita e che quindi porta e cerca di scaricare a terra un perché davvero più grande proprio di armonia benessere di tutti gli esseri senzienti cani e umani lavorare con angelo è stato illuminante poter vedere come si muove un professionista con dei casi e come dovrebbe essere la tua figura tra qualche anno ha attivato in me delle riflessioni e anche una voglia di fare e di mettersi in gioco e di continuare a studiare a osservare e apprendere è stato di ispirazione totale già nel vederlo ma nell'ascoltarlo partiamo già da così ha un modo di rimetterti a tuo agio di spiegarti perfettamente tutto quanto come anche a livello emotivo ti arriva proprio una empatia perfetta diciamo ti mette a tuo agio in ogni momento anche quando stai magari sbagliando una gestione la puoi migliorare non ti fa mai sentire in difetto ti dice semplicemente guarda prova a fare così e sei veramente coinvolto in ogni momento sia quando sei in aula ad ascoltare sia quando sei in aula a praticare totale ispirazione davvero